Ciao a tutti in MyPersonaPizza, siamo i ragazzi e oggi recensiremo un salmone di lava! Ehi, ciao! Quanto tempo! Ma io in realtà non ti conosco! Ah, scusa! È che assomiglio un sacco al mio castoro! Tranquillo, io in realtà sono una lampada! Davvero? Sai che ore sono? Sì! Bene, allora credo che andrò a dormire nel frigorifero per un po'! Ma ricordati del fuso orario! Va bene! Simone, hai visto la mia tunica papale? No, sto condendomi a punti di geografia! Prova a vedere nella stanza del gatto! No, sai che mi cerca di disturbarlo mentre fa la contabilità! Ma secondo te ho l'alito che sa di azzurro? Un pochino sì, ma cosa hai mangiato? Niente! Sai che ho smesso di mangiare per protestare contro le lenti a contatto! Bravo! Continua a lottare e vedrai che diventerai una bellissima farfalla! Grazie, sei proprio un ottimo amico immaginario! Mi sono proprio stufato di leggere i graffi nel parquet! Potremmo guardarci a terza stagione del frigorifero! No, ce l'ho tutta registrata da un tizio che grida! Ah, ho capito! Allora penso che resterò qui a mangiarmi i vestiti stirati! Ottimo! Io invece passerò dalla finestra per andare in bagno! Ehi, cosa c'è stasera per cena? Ma dai, sai che la mia religione mi impedisce di farmi porre domande? Ah, scusami! Mi dimentico sempre le cose da quando ho scambiato il mio cervello per una scatola di polli! Tranquillo! Comunque per cena c'è quel piatto di ghiaia che ha portato tua nonna! No, no, non posso! Lo sai che sono intolerante alle cose con troppe vocali! Grazie! Era da tanto che non provavo del dolore! No, in realtà te l'ho tirato perché hai della pelle sulla faccia! Ah, e sei riuscito a toglierla? No, oggi è venerdì! Bene, il gameplay è finito! Se l'ultimo film di Terenceil vi è piaciuto, fateglielo sapere disegnando un omino buffo sulla faccia di vostra zia! Non dimenticatevi inoltre di mettere il vostro grembiule in forno a 120 gradi! E se vi va, sollevate un tacchino d'acqua dolce dai suoi incarichi! Ciao a tutti e al prossimo!